Salve a tutti da Enjoy Viaticus, ci troviamo in Vietnam. Questo che mi circonda è il panorama probabilmente più famoso di tutto il paese, la Baia di Along, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1994 e nel ristretto novero delle sette meraviglie naturali del mondo. Si giunge qui con un tour da Hanoi, la distanza è poco più di 150 km. La Baia di Along riprende una leggenda secondo cui un drago aiutò i vietnamiti a sconfiggere l'esercito cinese formando poi questo panorama che comprende circa 2000 isolotti sbattendo ripetutamente la coda. Infatti Along significa il drago discendente. Si può avvenire qui con un tour organizzato dall'Italia oppure prontare direttamente una volta giunti a Hanoi. è una cosa davvero imperdibile, una delle attrazioni più famose di tutto il paese. Contattate Enjoy Viaticus per qualsiasi informazione in merito a questo tipo di attrattiva e per qualsiasi altro viaggio su misura nel mondo.